Rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di Bitcoin game siamo qui su Ghostrunner di nuovo perché mi voglio male ma veramente veramente male per la mia salute mentale andiamo un altro po' avanti in questo gioco estremamente difficile impegnativo che ti fa impazzire ma impazzire la volta scorsa non ce la facevo più abbiamo distrutto la colonna su quella torre ed è stato un parto allucinante TZ73N si chiamava così la torre con la colonna e l'abbiamo dovuta distruggere completamente ma è stato un fottuto casino non so se avete visto il video andate a recuperarlo in tal caso perché così vedete un po' quanto sclero male poi vi avrò fatto un sacco di tagli vi ho fatto un sacco di tagli ma adesso siamo arrivati in città quindi ce l'abbiamo fatta siamo qui in città ragazzi molto molto bello molto molto bella l'ambientazione mi piace assai come già detto anche nell'episodio scorso è molto cyberpunk io sto aspettando tantissimo cyberpunk spero che non lo rinvino di nuovo il gioco perché non vedo l'ora di averlo tra le mani e di giocarlo e portarlo sul canale esce il 10 dicembre cyberpunk o almeno per il momento e poi chissà vabbè proseguiamo su ghost runner andiamo un altro po' avanti vediamo un po' che succede oggi allora queste cose ci fanno ok fin qui tutto molto semplice le difficoltà ecco iniziano ad arrivare vabbè questo qui mi ha beccato potevo evitarlo facilmente eh niente niente il fatto che poterlo evitare facilmente Non è mai semplice Alla fine Che cos'è questa cosa? Ah Figo Ragazzi Fichissimo Cazzo Allora così Cascati Ah che palle Che palle Ragazzi Sembra una stronzata Però alla fine Se ti lanci troppo presto Cascati giù Cazzo Ah ma mi spara anche questo? Bene 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 Ottimo Mi fa piacere Sì sì Sono tipo dei droni Eccone un altro qui Allora Questa cosa è nuova Che fa Aspettate Aspettate Mi devo Mi devo organizzare La vita può lanciare Di sopra Così Non lo so Arrivo qui e poi Ma secondo me ho sbagliato Eh sì Eh sì Eh sì sì Ok Ok Tra poco ragazzi dovrò fare tutte queste cose Insieme Mentre ci saranno anche nemici Inquilino Spero che Dove è lì Inquilino Eccolo qui Inquilino Eccolo Un altro inquilino Che c'è? Qui c'è qualcosa sicuramente Un segreto Il nuovo oggetto acquisito Un pupazzo Un orsetto Uno sacchiotto di peluche logoro Allora Uno sacchiotto di peluche logoro Deve essere stato portato Nell'attore Durante L'afflusso di Rifugiati Appena prima Della deflagrazione A quel tempo Le famiglie erano devastate Quotidianamente Dal caos E dalla morte I bambini più fortunati Erano quelli Che avevano perso Solo il loro giocato Ah Vabbè alla fine Questi oggetti Che troviamo in giro Non ne sto trovando Tantissimi Però Raccontano un po' Di Quello che è successo All'inizio All'inizio Del caos Allora Aspettate Ci sono un sacco di strade Qui Comincia già a complicarsi La situazione Lì ci sono dei nemici Solo che sono bloccati Da uno scudo E lo scudo Deve essere qui Cioè Bisogna disattivarlo lì Quindi Perché c'è questo qui? All'inizio All'inizio Maledetto 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 Che ho usato la parata Io ho la parata La sto usando Ma sicuramente Non la uso Nel giusto tempismo Perché In questo gioco Tutto ha questioni Di tempismo Di tecnica Di velocità Ok Morto 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 Sì 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 Allora Qui dove si va Da questo lato Aspettate Io butto un occhio Dappertutto Magari C'è qualcosa di interessante Eccolo qui Segreto Qual è? Questo Allora ID impiegato Sam Sam Sara Corporation Quando l'attore Dharma Era solo Un grattacielo Tutti dovevano Esibire Una di queste Per entrarvi Quella che nel 1800 Era nota Come una Compagnia Mineraria È diventata L'ultimo Habitat Terrestre Dell'umanità Ok Va bene No 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 Non ci arrivo Troppo in alto No Troppo in alto Troppo in alto Dove devo andare Dove devo andare Vabbè Non capisco Ah Cazzo Mira All'oggetto Che fu a chiarare Che messio Ok Ma Ah Così No Quello non l'avevo Visto ragazzi Scusate Sono certo Quale è il tuo plan Per derrotare Il Kymaster Mi chiede La prima volta Ah ma Aspettate Aspettate Abbiate un attimo Di pazienza Ma è così Ok Adesso Ci siamo Liberati La strada Allora Qui c'è un drone Maledetto E niente Siamo cascati Perfetto Mettiamoci qui E lasciamo stare Il drone Eh sì Qui è un casino Qui è un casino Ragazzi A parte il fatto Che Sì Ah mi becca Allora C'è un robot Di merda Ah no È il drone Che mi sta beccando Allora Allora non capisco Se è il drone O quel potuto robot Se non mi becca il robot Mi becca il drone Maledetto No Vai Cazzo Sì Via Via Perché ce n'è uno lì Che mi spara No Che bastardo Così Così Capirei capire Dove devo andare Ah qui Ok 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 Zitti Zitti Aspetta Ah Ciao Vai Vai No Ce n'era un altro Qui Grande Grande Allora Qui c'è un segreto L'ho visto Si vede Benissimo Che te Killer Priest 3000 Una rara copia fisica Del remake Dattato del 2155 Di uno Sparatuto Cult Classico Dall'inizio Del 21 Secolo Molto popolare Tra i giocatori Più accaniti Prima Della Deflagrazione Non c'è modo Di farlo funzionare Ora Chissà Che Sparatuto È Cazzo Stronzo Ah Posso andare anche qui Aspettate No No Vabbè Dobbè Andare Da questo Lato Faccio Così Carca Puttana Che è successo Niente Erro convinto Di avercela fatta Non ce l'ho fatta Eh C'era qualcun altro Che Eh Basta C'è il bastardo Qui Che Manca C'è qualcun altro Eccolo Ciuccia Vai vai Sì Dharma City Livello completato Ottimo Allora ragazzi Abbiamo Superato Anche questo Livello Diciamo che Questa volta Ho scelerato Di meno Questo qui Mi sembra Nuovo Primi Per far Ci piace Bella lì Cazzotto Ci piace Allora ragazzi Dai Io mi fermerei Qui con questo episodio Anche per non farli Troppo lunghi Meno male Che Non è stata Poi Così tanto impegnativa Questa Questa parte Almeno per il momento Eh Poi non lo so Dove sto andando Vabbè dai Ragazzi Io mi fermo qui Come ho già detto Voi come sempre Fatemi sapere La vostra Fatemi sapere Come sempre Se lo state giocando Se Se l'avete abbandonato Per Per lo sclero Che Ti fa prendere Questo gioco Guardate Questo L'ho mozzato La testa Manissimo Proprio Con precisione Se il video Vi è piaciuto Lasciate un bel like Condividete Ragazzi Come sempre Iscrivetevi al canale Per supportare La serie Tutte le serie In corso Quelle che verranno Ragazzi Ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti